Siracusa, 10 aprile, 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Stamane la Polizia di Stato ha celebrato la ricorrenza della sua fondazione. Così come in tutti i capoluoghi di provincia, anche a Siracusa si è svolta la celebrazione dell'evento, una cerimonia che avrebbe dovuto svolgersi come di consuetudine in un'atmosfera consona, ma anche quest'anno così non è stato tenuto conto che l'attuale situazione epidemiologica e le connesse misure di contenimento non consentano che tale giorno possa essere ricordato come una festa, in quanto il primario obiettivo è che tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con il quotidiano e incessante impegno, cercano di preservare quello del bene più prezioso, la salute e l'incolumità dei cittadini. Alle 9 il questore di Siracusa Gabriella Ioppolo, alla presenza del prefetto Giussi Scaduto, ha celebrato l'evento unicamente in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona in memoria dei caduti nello spazio antistante alla sede della Questura, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività. Un semplice e breve momento di riflessione che è stato accompagnato dall'esecuzione del silenzio come segno tangibile di appartenenza all'istituzione che più che mai si riconosce nel mito che ha ormai fatto proprio il claim esserci sempre.